L'Abruzzo è la sesta regione in Italia per spesa farmaceutica ospedaliera e prima nel paese per spesa farmaceutica territoriale convenzionata. Ma la regione, con un taglio di 40 milioni di euro senza alcuna programmazione, costringe le ASL a dare meno farmaci. Taglia la spesa senza spiegare come saranno garantiti ai cittadini i farmaci necessari, ma non risolve il problema degli sprechi. Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, che durante una conferenza stampa a Pescara ha denunciato tale situazione e ha avanzato alcune proposte. Abbiamo scoperto che c'è una delibera di giunta regionale del 6 maggio 2019 che prevede un tetto di spesa e quindi un taglio lineare di 40 milioni di euro sulla spesa farmaceutica. Inevitabilmente questo provocherà che ci saranno medici prescrittori che potranno prescrivere molto meno e ci saranno meno farmaci all'interno delle strutture. E' un problema serio perché noi riteniamo che per adeguarsi agli standard delle altre regioni italiane non si deve tagliare in maniera ragioneristica sulla pelle dei cittadini che troveranno meno farmaci. E già sappiamo quel problema perché più volte i cittadini hanno denunciato che dovevano portarsi i farmaci da casa nelle strutture ospedaliere e non solo. Noi avremmo programmato in maniera strategica fatto cosa? Imponendo l'adozione del farmaco monodose a dose unitaria che sta facendo risparmiare alle regioni virtuose d'Italia il 20%, proprio quello che si chiede di tagliare in Abruzzo. Perché non si usa il farmaco monodose? Sono anni che lo stiamo chiedendo e lo chiediamo anche adesso in questo momento alla nuova amministrazione regionale. La informatizzazione e digitalizzazione per sapere la vita del paziente perché oggi il medico prescrittore non sa quello che si è fatto in ospedale, in ospedale non sa quello che si è fatto una guardia medica, la guardia medica non sa quello che si è fatto nel distretto sanitario e quindi si va così all'arrembaggio. Poi chiediamo un imponente investimento sociale sulle informazioni e sugli stili di vita sani perché sullo stile di vita sano si può far ricorrere molto meno all'uso e all'abuso di farmaci da parte dei cittadini. Poi un problema, io sono preoccupato di una cosa, che con questo taglio ai 40 milioni di euro il cittadino che avrà soldi andrà a comprarsi i farmaci in farmacia. Chi non avrà soldi rinuncerà all'acquisto di farmaci e rinuncerà alle cure. Questo sarà l'effetto nefasto che mi preoccupa e quindi chiedo al Presidente regionale e all'assessore regionale di sposare le nostre proposte.